C'era una volta il Chievo in Serie A. Andiamo a dare un'occhiata all'ultima stagione dei Clivensi in massima divisione. Chi c'era in quella squadra e che fine hanno fatto oggi? Quella del Chievo-Verona in Serie A è stata un'epoca molto particolare. Quando nel 2001 la squadra Clivense, nata come dopolavoro calcistico nel 1929, viene promossa per la prima volta in Serie A, pochi si aspettano il rendimento della squadra in quella stagione. E ancora meno, pensano che quella giallo-blu sia una realtà destinata a diventare una presenza quasi fissa in Serie A per quasi 20 anni. Fino al 2019, quando arriva la retrocessione in Serie B. Una retrocessione diversa da quella del 2007, quando i Clivensi si rialzarono a pie pari, vincendo il campionato di Serie B e ottenendo immediatamente la promozione in Serie A. Perché la scorsa estate, dopo due campionati di Serie B, il club è stato estromesso dai campionati professionistici per inadempienze fiscali. Ed è scomparso. O quasi. Ma ci arriviamo dopo. La stagione 2018-2019 è l'inizio della fine per il Chievo, che dopo un avvio accidentato incappa anche in una penalizzazione di tre punti per plusvalenze fittizie. E nell'inibizione del presidente Luca Campedelli fino alla fine dell'anno solare. La prima vittoria contro il Frosinone arriverà solo dopo due cambi d'allenatore alla fine del girone d'andata. E di vittorie ne arriverà soltanto un'altra, contro la Lazio, a retrocessione ormai matematicamente assodata. La stagione inizia con Lorenzo Danna in panchina. 13 stagioni da giocatore del Chievo a cavallo della storica promozione del 2001. Ma anche un passato da allenatore della primavera. Viene promosso in prima squadra a tre giornate dal termine del campionato precedente, per sostituire l'esonerato Rolando Maran. Tre vittorie in tre partite gli permetteranno di salvare il Chievo. Ma nella nuova stagione dura appena otto gare, raccogliendo solo due punti prima di essere esonerato, in quella che finora è stata la sua ultima esperienza in panchina. Al suo posto il Chievo chiama Giampiero Ventura, la sua prima panchina dopo la mancata qualificazione al mondiale con la nazionale italiana. Avrà anche lui vita breve, solo quattro partite con appena un punto portato a casa, prima di rescindere il proprio contratto. E la sua ultima esperienza in panchina è stato il decimo posto raggiunto con la Salernitana in Serie B due anni fa. Finalmente il Chievo si assesta su Domenico Di Carlo, che aveva già allenato la squadra in due occasioni. Non riuscirà a salvare la squadra, che lascerà alla fine della stagione per unirsi all'Anerossi Vicenza. Coi Vicentini otterrà al primo tentativo la promozione in Serie B, anche se all'inizio di questa stagione è stato esonerato. Un simbolo di quella squadra è il portiere Stefano Sorrentino. Sarà l'ultima delle sue otto stagioni al Chievo, inframezzate da una parentesi di tre anni e mezzo al Palermo, e dovrà raccogliere il pallone dalla propria porta ben 60 volte in 31 partite disputate. La sua stagione non inizia nel migliore dei modi. Nella prima giornata contro la Juventus, Sorrentino sviene dopo un impatto con Cristiano Ronaldo sulla linea di porta. Fortunatamente si rialza poco dopo, ma deve essere sostituito da Andrea Seculin, ora della SPAL, che giocherà anche la seconda partita al suo posto subendo ben sei gol dalla Fiorentina. Sorrentino si rifarà nella gara di ritorno, in cui diventerà il primo portiere di Serie A a parare un rigore a Cristiano Ronaldo. Nel finale di stagione perde il posto da titolare in favore del croato Adrian Schemper, ora portiere di riserva del Genoa, che l'ha ingaggiato da svincolato dopo l'esclusione del Chievo dai campionati. Dopo la retrocessione, Sorrentino lascia il Chievo e annuncia il suo ritiro dal calcio professionistico, continuando però a giocare tra seconda divisione e promozione con Cervo e Torinese. Curiosità, in entrambe le esperienze, l'allenatore è stato suo padre, ex portiere a sua volta. E invece di piazzarsi tra i pali, Sorrentino ha deciso di giocare come centravanti. Nel 2021 ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, diventando procuratore sportivo. Passiamo alla difesa centrale, partendo da Luca Rossettini, preso in prestito dal Genoa, e che verrà utilizzato solo fino a febbraio, per poi essere relegato in panchina. Si è ritirato la scorsa estate dopo una stagione e mezzo a Lecce e sei mesi al Padova in Serie C. E ora è allenatore dell'Under 17 della squadra veneta. Destino migliore è quello di Mattia Bani, che inizia la sua seconda e ultima stagione al Chievo, segnando un'autorete contro la Juventus. Dopo la retrocessione, passerà al Bologna, e poi al Genoa, dove gioca tuttora. Il terzino destro titolare è Fabio De Paoli, prodotto delle giovanili del Chievo, promosso in prima squadra nel 2017. E' approdato anche in nazionale Under 21. Anche lui lascerà a fine stagione per unirsi alla Sampdoria, dove milita tuttora. Sull'altro lato invece gioca Federico Barba, che quell'estate torna in Italia dopo una stagione all'estero allo Sporting Gijon. Dopo la retrocessione torna in Spagna con il Real Valladolid, mentre dal 2020 è un giocatore del Benevento. Ci sono però altri nomi che dobbiamo citare per la difesa di Quei Chievo, come Paolo Jaroszynski, ora in forza alla Salernitana in prestito dal Genoa. Oppure l'ex fiorentina Nenad Tomovic, che gioca nel campionato Cipriota con l'Aec Larnaca. Ma anche l'italo-argentino Esquiele Schelotto, preso in prestito dal Brighton nella finestra di mercato invernale, dopo una precedente esperienza al Chievo sempre in prestito. Un ex nazionale italiano che ora è tornato in Argentina, a Racing de Aveshaneda. Ecco quindi la difesa di Quei Chievo, completamente smobilitata dopo la retrocessione in Serie B. Passiamo allora al centrocampo a Rombo, visto che nella maggior parte delle partite quel Chievo giocherà con un 4-3-1-2. Il vertice basso del Rombo risponde al nome di Ivan Radovanovic, prodotto della premiata cantera del Partisan Belgrado, approdato in Italia tramite l'Atalanta. Proprio dai bergamaschi lo preleverà nel 2013 il Chievo, di cui lui diventerà vicecapitano nella stagione 2017-2018. Lascerà durante la finestra invernale per unirsi al Genoa, dove verrà riconvertito come difensore centrale, e dove all'inizio della stagione attuale è stato messo fuori dalla rosa della Serie A. Al suo fianco ecco le mezzali, a partire da Perparim Hetemai, che si unisce al Chievo nel 2011. Kosovaro di Finlandia si professa di fede laziale, anche se proprio ai bianco-celesti durante quella stagione lascerà un brutto ricordo. Il Chievo è già retrocesso quando vince la sua seconda e ultima partita di quella stagione, proprio all'Olimpico, per 2-1. È un bel momento per i clivensi, passato in vantaggio con un gol di Emanuel Vignato, ora al Bologna. Un prodotto del vivaio che segna così la sua prima rete tra i professionisti. Il secondo gol invece è proprio di Hetemai, che alla fine della stagione lascerà la maglia del Chievo dopo averla indossata quasi 250 volte. Dopo due stagioni al Benevento, che ha contribuito a riportare in Serie A, si è unito alla regina in Serie B. Se Vignato e Detemai siglano il secondo acuto stagionale, il primo, la vittoria contro il Frosinone del 29 dicembre 2018, all'ultima d'andata, è firmato da Emanuele Giaccherini. È una sua punizione a un quarto d'ora dalla fine a regalare al Bente Godi il suo unico successo interno stagionale. Giaccherino al Chievo è appena arrivato, nella finestra invernale della stagione precedente, ma al contrario di quasi tutti gli altri, lui deciderà di rimanere dopo la retrocessione, guadagnandosi i gradi da capitano e chiudendo proprio al Chievo la sua carriera la scorsa estate. Il trequartista di questa formazione è invece lo sloveno Walter Birsa, nato e cresciuto a un passo dal confine con l'Italia. Approdato al Chievo nel 2014, era stata una pedina fondamentale del cosiddetto pandoro meccanico di Rolando Maran. A metà stagione lascia Verona per approdare al Cagliari, dove ha concluso la propria carriera da professionista. A centrocampo meritano una menzione però altri tre giocatori. Nicola Rigoni, che dopo la retrocessione non è più tornato in Serie A e che ora gioca al Cesena in Serie C, Mehdi Leris, ora al Brescia in Serie B dopo due stagioni in blu cerchiato, ma soprattutto Joel Obi, prodotto del vivaio nerazzurro lanciato da Murigno. Lui lascerà il Chievo a metà stagione per andare in prestito in Turchia, ma tornerà l'anno successivo, vestendo in alcune occasioni anche la fascia da capitano del club gialloblu. Rimasto svincolato dopo la scomparsa del club, si è unito alla Salernitana. Ecco il centrocampo di quel Chievo, con gli eroi delle uniche due vittorie di quella stagione. Ed eccoci finalmente al settore offensivo, ma prima di passare ai titolari è doveroso menzionare altri due giocatori. A partire da Riccardo Meggiorini, che segnerà tre gol determinanti per altrettanti pareggi. Prelevato dal Torino nel 2014, giocherà al Chievo un'altra stagione dopo la retrocessione, prima di unirsi alla Nerossi Vicenza. Ma c'è anche Filip Djordjevic, prelevato dalla Lazio proprio quell'estate. Segnerà un solo gol nella sconfitta 4-3 contro la Fiorentina, ma rimarrà al Chievo anche dopo la retrocessione. Rimasto svincolato dopo la scomparsa del club, non ha ancora trovato una nuova squadra. Il primo titolare della nostra coppia d'attacco è Mariusz Stepinski, prelevato la stagione precedente dal Nantes. Non solo è il miglior marcatore di quel Chievo con sei gol, ma anche il giocatore con più presenze stagionali. 35 più le due gare di Coppa Italia. E alla quarta giornata è un suo gol all'83esimo a permettere al Chievo di pareggiare contro la Roma, 2-2. L'anno successivo la retrocessione lo comincia in Serie B con il Chievo, ma prima della chiusura del calciomercato si trasferisce in Serie A, pur rimanendo nella città scaligera. Questo perché se il Chievo è retrocesso, quella stessa estate, l'Ellas è tornata in Serie A. Tutt'ora è di proprietà del Verona, che però l'ha ceduto in prestito prima a Lecce e poi ai ciprioti dell'Aris Limassol. C'è però un giocatore che è il simbolo assoluto di quel Chievo. Un centravanti a Ostano che si è unito alla squadra nel 2002 e che si ritira proprio in coincidenza con l'ultima partita del suo club in Serie A. È il capitano, Sergio Pellissier, 17 stagioni per il Chievo, con oltre 500 presenze e quasi 140 gol segnati. E da vera bandiera anche quell'anno non si risparmia. Almeazza segna il gol della bandiera contro il Milan, segna il Bentegori contro la Lazio un gol che vale un pareggio e poi su rigore contro la Fiorentina nella sconfitta 4-3. Ma soprattutto regala un'ultima sfrenata gioia ai tifosi clivensi il 22 dicembre, alla diciassettesima giornata, marcando al 91esimo la rete del pareggio contro l'Inter. Dopo il ritiro entra a far parte dell'area tecnica del Chievo, che però lascerà poco prima della scomparsa del club. Anzi, è lui che nel frattempo è diventato direttore generale del Rovigo in prima categoria a cercare disperatamente di salvare il Chievo e di ottenere l'iscrizione in Serie D, senza però riuscire a trovare sostegno finanziario. Così ad agosto ha deciso di creare una nuova squadra, con l'obiettivo di raccogliere l'eredità del Chievo. Si chiama Football Club Clivense ed è iscritto al campionato veneto di terza categoria. E chissà se un giorno riuscirà di nuovo a scalare le categorie e a far rivivere l'epoca del pandoro meccanico in Serie A. Ecco quindi la squadra completa di quel Chievo, con il suo capitano carismatico, bandiera vera, grande anima del club. Che ricordi avete del Chievo in Serie A? Fatecelo sapere nei commenti e se vi è piaciuto questo video, premiateci con un like e iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata. Siete su OneFootball di Kakista, se si è piaciuto il nostro canale, Siete su questo video.